Ricorderete tutti che cosa è accaduto l'ultima partita del campionato di Serie B di calcio a 5 della scorsa stagione. La Chaminade aveva bisogno di un punto per avere il pass per i playoff ed ospitava il Pala Selvapiana e il Fano. La partita era sul pareggio quando, con il suono della sirena già iniziato, un tiro dei marchigiani è terminato in rete. Gol non valido naturalmente perché conseguente del tiro scoccato con lo zero sul cronometro. Quindi partita finita come da regolamento. Ebbene, così per tutti tranne che per il cronometrista di quella gara, Capaldi di Isernia, che aveva concesso il gol irregolare e di conseguenza escluso la Chaminade dalla fase post-season dei playoff. Il filmato di Telemolise ha fatto il giro del mondo senza esagerazioni, ma tutti i ricorsi proposti da Scarnata non hanno sortito alcun effetto, tanto che il patron aveva anche pensato di abbandonare il campionato. Ieri sera, la prima partita ufficiale della nuova stagione per la coppa di divisione tra Chaminade e Cus Molise, indovinate chi è stato designato a dirigere la gara? Sì, proprio lui, il signor Capaldi di Isernia, che come minimo avrebbe dovuto chiedere la preclusione per gli incontri della Chaminade, dopo i danni che aveva arrecato alla società Campobassana. Ci siamo informati, la designazione è stata effettuata da un certo Montessardi della Can Calcio 5 di Bari. A parte che sicuramente anche questo signore ha la conoscenza dell'errore di Capaldi, ma è mai possibile che a livello regionale, né il presidente della sezione di Isernia, né il presidente regionale degli arbitri, abbiano avuto il buon senso di consigliare a Capaldi di non tornare sul luogo del misfatto? Non sono fatti loro, impegnati come sono, a curare gli aspetti formali della vicenda. La verità è che siamo alle solite, il mondo arbitrale fa acqua da tutte le parti, se è vero come è vero che anche a livello di Calcio a 11 continuano ad accadere episodi sconcertanti, come ad esempio la mancata consultazione del VAR in alcune situazioni che alterano i risultati delle partite. Una vera e propria casta che è sempre refrattare ad interagire con il resto del mondo e che si vanta dei propri errori cercando giustificazioni assurde ed arrampicandosi su specchi impossibili. Ieri sera è andato tutto bene per fortuna, ma cosa sarebbe potuto accadere su un campo caldo e con gente incivile? Ci rispondano i vertici arbitrali una volta tanto e senza vergognosi scarica Barili.